La prima partita è iniziata la quarta edizione, la prima partita i Pound Soldiers hanno battuto per 6-4 la pluminense. Sono con Giuseppe Coco, il migliore in campo per la sua squadra, purtroppo nel primo tempo ero in partita, nel secondo tempo a inizio ripresa siete calati e diciamo che poi non siamo riusciti ad agguantare la partita, anche merito agli avversari. Purtroppo non siamo arrivati nei sistemi, nelle cose come potremmo giocare e la prima vediamo la prossima Speriamo in più fortuna. Vabbè ringraziamo Giuseppe Coco a Pettardi con l'altro protagonista di giornata. Ciao ragazzi. Per i Pound Soldiers eccoci con Gianluca Mancuso, oggi autore anche di tre gol che hanno in gran parte contribuito ad arrivare alla vittoria. Siete stati bravi fino al primo tempo e soprattutto in inizio ripresa ad allungare il risultato. Poi avete ammaestrato il risultato e alla fine è arrivata questa vittoria importantissima per me. è importante perché era la prima, si era messa male all'inizio però poi siamo riusciti a vincere lo stesso, sono contento per la giustiziazione e niente, i diaversari erano forti però alla fine sono contento anche per i tre gol e niente, speriamo che continuiamo così. Ringraziamo anche Gianluca Mancuso, a più tardi con le altre partizie. Grazie a tutti.